Buongiorno a tutti, allora schedine e bollettine del Gigione per la Champions di domani più l'Europa League una partita perché c'è Spartak Mosca Napoli nel pomeriggio del mercoledì quindi aggiungerò quella alla fine dell'elenco delle nove partite. Quindi partiamo subito con Besitta Ajax 2, Inter Schattardonez 1, Kronbrug Lipsia X2, Manchester City Paris Saint Germain a mio rischio e pericolo 1, Atletico Madrid Milan 1-2 anche perché il pareggio non è che serva più di tanto, è una partita che entrambe le squadre devono vincere, il Milan per sperare di riuscire almeno a qualificarsi all'Europa League perché sennò finirebbe quarto e andrebbe già a casa, magari sono contenti perché sperano di vincere lo Scudetto però poi dopo non possono fare mercato a gennaio perché soldi che ne arriva la minga poi magari fanno mercato lo stesso non lo so chi lo sa vedremo comunque 1-2 Liverpool Porto 1 anche se il Liverpool già qualificato magari giocherà un po' scazzatiello con le seconde linee eccetera però comunque giocano in casa giocano a Denfield c'è il pubblico anche con le seconde linee non penso che snobberanno la partita le squadre inglesi è difficile che snobbino una partita. Sporting-Dormund 1-2 perché è una partita da aiuto aiuto arriva il lupo e Sheriff-Real Madrid 2 a meno che il Real Madrid vuol fare un'ennesima figura e merda come la fece l'anno scorso con lo Schattardones che riuscì a perderle tutte e due però vedendo l'Inter come ha vinto sia l'andata che il ritorno con lo Sheriff non penso che il Real Madrid possa lasciarsi sfuggire la la vittoria con gli sceriffi che tra l'altro con la contemporanea si spera vittoria dell'Inter con lo Schattard sono praticamente qualificati in Europa League. Schenino alternativa signori stavo mettendo via A giusto Spartan-Mosca-Napoli 2. Io credo che il Napoli si vendicherà della sconfitta dell'andata anche se dovrà fare a meno del buono Osimè, 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 a ganfilone d'oro, Osimè, Osimè, e non giochi più e anche quest'anno questi per tre mesi lo perdono vabbè l'anno scorso sarei infortunato quest'anno sei infortunato e in più deve andare anche a fare la Coppa d'Africa quindi lo rivedremo a febbraio temo e 40 e 50 giorni ora che rientra siamo già al 6 di gennaio più o meno forse riesce a fare una partita poi parte. Proseguiamo con la schedina alternativa Bisitta-Saias, gol. Inter-Shattar, over 1,5. Klombrug-Lipsia, gol a mio rischio e pericolo. Manchester City-Paris Saint-Germain, gol perché signori miei se questa partita non regala almeno tre gol non ho parole. Atletico Madrid-Milan, gol perché già l'andata è finita 1-2 quindi mi aspetto un risultato similare o anche qualche cosa di più tenendo conto che il Milan con la Fiorentina è finita 4-3 quindi mi aspetto valanghe di gol da entrambe le squadre. Liverpool-Porto, over 2,5 Sporting-Borussia Dortmund, gol e Sheriff-Real Madrid, over 2,5. Per quanto riguarda Spartan-Mosca-Napoli Stoskiscio, over 1,5. Tranquillo. Proseguiamo con le bollettine del Gigione Allora ho scelto queste quattro partite. Ho scelto Atletico Madrid-Milan, City-Paris Saint-Germain, Liverpool-Porto e Bruges-Lipsia. Andiamo a vedere subito la bolletta delle fisse. Atletico Madrid-Milan, 1. City-Paris Saint-Germain, 1. A mio rischio e pericolo. Liverpool-Porto, 1. Bruges-Lipsia, 2. Con 5 euro se ne vincono 51,07. Come vi dico sempre questa è la bollettina delle fisse quindi io ho l'obbligo di giocare solo fisse perché sennò non si chiamerebbe bollettina delle fisse. voi potete tranquillamente mettere una o due doppie che comunque una trentina di euro dovreste portarli a casa lo stesso. Andiamo alla bollettina number two. Atletico Madrid-Milan, multi-goal casa 1-3 ma anche qui potrebbe starci un 2-4. City-Paris Saint-Germain, multi-goal casa 2-4. Liverpool-Porto, multi-goal casa 1-3 proprio perché magari il Liverpool non farà la super partita eccetera. però penso che tranquillamente un gol al Porto l'ho fatto senza problemi. E infine Bruges-Lipsia, multi-goal ospite 1-3. Anche qui potreste sfruttare o rischiare il 2-4. È a vostra discrezione. Sono tutte partite molto borderline in cui potrebbero uscire un solo gol della squadra scelta come potrebbero uscire anche più di quattro. Può succedere veramente di tutto. Comunque, come dicevo prima, con 5 euro se ne vincono 16,33 proprio per questo vi dicevo che se qualcuno vuole rischiare qualche 2-4 sono tutti possibili, non certi perché nel calcio non c'è nulla di certo, però sono tutti possibili perché sento abbastanza un bel profumo non di formaggio ma di gol. Proseguiamo con la bollettina numero 3 con due alternative. Atletico Madrid-Milan 1x più over, City-Paris-Saint Germain 1x più over, Liverpool-Porto 1x più over, Bruges-Lipsia 2 più over. Con 5 euro se ne vincono 20,88, opzione number one molto rischiosa. Io sinceramente qui... però ci stanno. Allora, partiamo subito. Atletico Madrid-Milan 1x più over, City-Paris-Saint Germain 1x più over, Liverpool-Porto 1x più over, Bruges-Lipsia 2 più over. Con 5 euro se ne vincono 27,79. In City-Paris-Saint Germain comunque potreste anche usare l'alternativa 1x più over 2,5. Se non siete convinti della... potrebbe essere un'idea. Perché mi era malenata ma poi ho detto no, stiamo sul classico. Opzione numero 2. Atletico Madrid-Milan 1 più over, City-PSG 1 più over, Liverpool-Porto 1x più over, Bruges-Lipsia 2 più over. Con 5 euro se ne vincono 37,12. Ecco. Se volete lasciare le doppie potreste comunque in certe partite scegliere l'over 2,5. Ve lo dico così tanto per una cosa in più, un consiglietto in più. Andiamo alla bollettina number four, numero 4 che mi fa Libidine. Atletico Madrid-Milan gol ospite, City-Paris-Saint Germain gol ospite, Liverpool-Porto gol ospite, Bruges-Lipsia gol casa. Con 5 euro se ne vincono pochi, 16,25. Però comunque sono sempre tre volte la posta. Andiamo alla bollettina numero 4 e che mi tocca fare le imitazioni. Allora, Atletico Madrid-Milan gol piover, p'bacco. City-Paris-Saint Germain gol piover, p'bacco. Liverpool-Porto gol piover, p'bacco. E Bruges-Lipsia gol piover, p'bacco. Era un po' l'abbattantuono per intenderci. Con 5 euro se ne vincono, 69,10. Avrete capito che tutti i gol piover sono favoriti, anche in maniera abbastanza netta, a parte Atletico Madrid-Milan che siamo lì lì. C'è una differenza minima, però è favorito il gol piover. Andiamo alla bollettina number six. Atletico Madrid-Milan, uno più gol. City-Paris-Saint Germain, uno più gol. Liverpool-Porto, uno più gol. Bruges-Lipsia, due più gol. Con 2 euro se ne vincono, 226,62. Con 5 euro, 566,55. Però Atletico Madrid-Milan, l'uno più gol non è favorito e c'è quasi un punto di differenza a favore del no-goal. Quasi, eh? L'altra partita in cui l'uno più gol non è favorito, ma siamo lì lì perché c'è una differenza minima di 0,20 a favore del no-goal. Anzi, 0,10. proprio un'anticchia a favore del no-goal è Liverpool-Porto. Quindi per cui, vedete voi, comunque vi faccio come sempre la bolletta alternativa tenendo conto che Liverpool-Porto potreste mantenere anche l'uno più gol. Quella è una vostra decisione. Lì è da monetina per intenderci. L'altra magari ci può stare, ma credo che un gollettino al Milan all'Atletico non riuscirà a fare lo stesso anche andando contro i bookmaker proprio perché è il gol più over e favorito. Comunque, bolletta alternativa così per sfizio. Atletico Madrid-Milan 1 più 1 gol. City-Paris Saint-Germain 1 più gol. Liverpool-Porto 1 più 1 gol. Bruges-Lipsy a 2 più gol. In questo caso con 2 euro Saint-Germain con 165,04. Con 5 euro 412,60. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto e vi ringrazio che tra poco inizia l'altra lezione del corso dalle 14 alle 18. Poi dalle 18 alle 20 ho Interlive. Finito quello vi farò il riepilogo nel campionato italiano con le partite eccetera eccetera. il riepilogo del fantacalcio nostro o della partita Monza-Como-Libidine purtroppo terminata 3 a 2 per il Monza. Vedrò comunque un paio di video ve li faccio sicuramente. L'altro ve lo farò nella giornata di domani che sarà un macello perché ho 9,13, 14,18 il corso quindi non so come riuscirò lo farò magari dopo nel tardo pomeriggio. In più ci sono le schedine e bollettine del gigione che ve le faccio nella serata di domani perché umanamente non gliela faccio. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!